Matteo Salvini come Adolf Hitler? Finisce in tribunale il post su Facebook di un blogger marocchino denunciato dal leader della Lega per il paragone con il dittatore nazista. Sofiane Maloney ha pubblicato un post su Facebook con la foto di Hitler a fianco a quella di Matteo Salvini, seguita da un elenco di programmi comuni tra i due. Un post molto condiviso sui social che ha suscitato l'ira del leader della Lega, facendo scattare l'immediata denuncia. Adesso il blogger vuole difendersi e rilancia le critiche a Salvini. No, io non ho paragonato Salvini a Hitler, ho paragonato un tipo di ideologia basata sull'odio, esisteva nel passato, ha fatto dei danni al mondo intero, che ora c'è una in Italia, come c'era anche in Francia, come c'è in Olanda, come c'è in tutti i paesi europei, questa ondata di politica populista è che può fare del male anche alla società italiana, non c'è un paragono Hitler uguale a Salvini. Però associare la faccia di Hitler a quella di Salvini è... Non è associare, ho fatto diciamo un confronto, ma confrontare una persona che fa parte del passato con una persona attuale non penso che sia un variato, farlo. Un segnale per dire alle persone di stare attenti a quello che sentono e a un certo tipo di politica che esiste in Italia. Ecco, te a chi parli? A chi ti rivolgi? Alle persone che credono in una società multietnica, una società senza odio, una società senza diciamo paura dell'altro e una società sana diciamo. Quei musulmani invece che emeggiano l'odio si sono resi protagonisti di attentati che hanno fatto tanti morti, compresi tanti musulmani. Come si parla con le persone? Con quelle persone direi che hanno fatto del male soprattutto ai musulmani in paesi islamici. Fanno del male anche in Europa, tantissimo male. Non c'è nessun modo di dialogare con loro. Chi usa quel tipo di violenza non merita un dialogo, insomma. Ecco, ma se te oggi incontrassi Matteo Salvini per strada, cosa gli diresti? Cosa gli direi? Gli direi che comunque quel tipo di politica basato sull'odio non può portare lontano. Sofiane sta subendo un processo penale perché ha ricevuto una denuncia da Matteo Salvini della Lega Nord per un post che ha pubblicato su Facebook. Quindi adesso stiamo provando a chiedere l'archiviazione con una serie di argomentazioni giuridiche che si basano principalmente sul fatto che quel post che certamente è forte in realtà non riassume altro che quelle che sono le affermazioni che Matteo Salvini nel corso di questi anni ha fatto effettivamente sui social media. Queste affermazioni dicono che Matteo Salvini odia musulmani, Matteo Salvini odia omosessuali. Pensa che i Rom sono il problema dell'Italia? Su queste tre circostanze, cioè sui musulmani, sugli omosessuali e sui Rom ci sono decine e decine di post che ho raccolto dal profilo di Matteo Salvini che condannano fortemente l'Islam, canzonano l'Islam moderato, che parlano di malattia con riferimento all'omosessualità e che parlano di sgombro in maniera molto forte dei campi Roma come se fossero l'unico problema presente in Italia.